benvenuti benvenuti amici di fuoricampo benvenuti a questo video di commento alla terz'ultima giornata del campionato regolare serie b che ha emiss il primo verdetto della seconda vetta della stagione dopo l'associazione dell'eco alla settimana scorsa è arrivata la pronunzione diretta del parma con due turni di anticipo ma di questo parleremo in maniera più diffusa in un video a parte e ora restando a livello generale sul campionato gli ultimi 180 minuti dovranno sciogliere i dubbi riguardo la le ultime due le decisioni dirette la seconda promozione detto in serie anche se avevamo detto ci avevamo lasciati dopo il commento alla sette cinquesima giornata con la consapevolezza che il prossimo turno successivo sarebbe stato decisivo e sono forti indizi che lo sia stato perché perché come venezia hanno fatto risultati opposti come riuscito a vincere a battere in mondo e cittadelle catanzaro ha perso una partita molto particolare in venezia per saprete molto particolare catanzaro ci sono quattro punti di distacco per le due squadre come ovviamente saprete tutti e anche visto la fatto che il venezia è particolarmente coperto e seguito all'interno di fuoricampo la situazione di lagunare appesa un filo come infatti a soltanto tre punti da conquistare per accettare la promozione il discorso potrebbe chiudersi il prossimo turno a modena altrimenti ci sarà l'ultima in casa contro il cosenza già salvo ecco tutto fa pensare che per il venezia ci sarà la promozione eventuale passerà dai play off è stato un pomeriggio molto particolare quello del primo maggio partite spettacolari ma anche dove ha parecchie situazioni controverse punto di vista arbitrale parte che dal mondo abitare sotto scosso dalla notizia della dimissione improvvise date dall'arbitro mano il volpe di arezzo peraltro rese note subito dopo la fine della partita che lo stesso volpe ha diretto che monese pisa sicuramente la situazione anomala evidentemente l'arbitro toscano aveva già deciso questo già preso questa decisione ma resta comunque l'anomalia in una stagione in cui comunque il mondo abitare stato piuttosto scosso dall'interno da diverse situazioni diverse tensioni e ovviamente se tutto fa pensare a situazioni personali da parte di volpi che però sono attirarsi fuori due giate dalla fine del campionato possibile che non avrebbe magari non sarebbe ogni sarebbero stati affidati gradi play off play out ma non è detto visto che comunque rock il affidato che il monese pisa una patente una delle parti più importanti della giornata comunque questo ha sostanzialmente preceduto comunque arrivati in contemporanea con una giornata di serie b molto molto sofferta puntista abitrale ascoli cosenza e anche sul tiro alternata sono state partite piuttosto difficile questo punto di vista i due rigori negate prima concessi all'ascoli poi negati dopo il var giustamente un rigore forse più evidente degli altri che non è stato dato ai marchigiani sul tiro alternata condizionata dall'espulsione di boloca in genoa dal rigore concesso agli altri tesini per il fallo di sole se suo doggo e insomma risultati che hanno sicuramente inciso sulla lotta per non retrocedere potrebbero incidere la partita di catanzaro è stata abbastanza sviscerata in tutti i suoi sviluppi sicuramente il meglio di me da davide marchiolo ma sappiamo come le contestazioni la 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 maretta in cui venezia accolto l'espulsione per dopo emozione di sverco il rigore concesso all'ultimo minuto è fatto ripetere detto che quel pareggio venezia non sarebbe lo senso deve essere sarebbe cambiata poco o nulla perché con tre punti di distacco comunque dal como comunque il lagunale sarebbe il il ariani sarebbero rimasti padroni nel proprio destino ma un punticino comunque avrebbe permesso a venezia se non altro di tenere potrebbe tenere avrebbe potuto permette a venezia di tenere in palle aperti gli scorsi fin ultima giornata mentre questa volta il como a bastano tre punti diciamo col pareggio come per sarebbe stato comunque costretto a vincere due partite per essere sicure perché in caso di partita dei punti sarebbe stato sarebbe il venezia passare serie a così no piccoli dettagli sicuramente l'ingenuità di sverco rischia di condizionare in maniera pesante il finale di campionato di tutto il tutta la serie b ma comunque sicuramente è stata una stagione non positiva non per gli arbitri né in serie a né in serie b tutti questi episodi acquiscono la tensione ma al di là di quello che è successo dal punto di vista arbitrale ora il como al coltello della parte del manico la partita con due cittadelle è stata particolare nel senso di coma confermato di non attraversare il miglior momento della sua stagione già contro la sandoro aveva concesso molto ma in precedente anche anche nelle settimane prima col catanzaro si è vista una squadra comunque in sofferenza è chiaro che paragonando le partite del como e del venezia catanzaro si vede come catanzaro ha creato forse anche di più col como rispetto alla partita quanto è rispetto a quello stesso col venezia ma alla farla differenza sono state ancora le individualità è successo così in caso del catandaro con il con le reti di da cugna e di gabrilloni la buona partita di cutrone è successo anche con due cittadelle cittadelle che fino al sessantesimo meritava ampiamente il vantaggio e anzi insomma prima del gol di pittarello la squadra di goline vacato diverse occasioni poi è arrivata la rimonta del como figlio dell'individualità del gol di verdi del pareggio del gol della vittoria di golda niga su astis di insame anche qui tra l'altro protesta e da parte delle cittadelle per un presunto fallo su carriera nella azione del 2 a 1 ma comunque diciamo che un como che sta arrivando come naturale per mente che sia al traguardo col fiatone ma la spruzione è un passo ritorno in serie a dopo 23 anni un passo ma c'è la partita di modena tra l'altro modine come sono tutte separate divise da una rivalità che a fonda su radici negli negli anni i tifosi del como non potranno arriva andare a braglia per dirvi o almeno residenti della provincia di como non potranno andare a braglia a sostenere la squadra sicuramente e como sarà sostenuto magari da tifosi preventi da altre province dalle zone d'italia però insomma sicuramente sarà una partita non semplice anche perché modena viene dalla brutta passazione di reggio emilia la prima sconfitta dell'era bisoli non è piaciuta ai tifosi è una squadra molto rinunciata aria tecnicamente non ancora salva anche se ne parleremo fra poco a 43 punti la salvezza è pressoché certa ma comunque non per magari distillare false e speranze però come lo comodo comunque dovrà sudarsi la vittoria modena vuoi appunto per la verità suddetta vuoi anche per la volontà dei diventatori del mondo di chiudere al meglio in caso stagione piuttosto attarenante che aveva visto a lungo la squadra anche in zona in zona periodo playoff comunque lottare per l'alta classifica come dovrà sudarsi questa vittoria a col moden e così dando la fatica mostrata con cavo contro cittadella diciamo che ancora c'è un'ultima giata di speranza per il venezia perché diciamo che anche un pareggio anche un pareggio di coma associato una vittoria del venezia in caso contro raffa i ralpi ma manterrebbe italiana due punti con due punti di vantaggio e poi batta l'ultima giata e cosenza potrebbe già salvo in casa potrebbe essere una formalità quindi ancora c'è un ultimo minuti a settimana di speranza per il venezia è molto difficile ma insomma il come sicuramente non avrà vita facile a modena detto questo passando alle altre situazioni di classifica hanno vinto appunto detto del catanzaro vince anche la cremonese contro il pisa grazie una spende punizione di coda e teoricamente tiene a perdere la finestra per il terzo posto ma ai limiti dell'impossibile considerando i quattro punti di vantaggio del venezia più che altro risponde tiene dietro il catanzaro che a meno tre e calda cremonese quindi diciamo che ricordiamo che terza e quarta salterebbero il turno preliminare per gli offre catanzaro sicuramente nelle ultime due giornate contro la ternale contro la sannoria tenterà il difficile aggancio alla cremonese comunque per ora in vantaggio parità negli sconti detti e in vantaggio nella differenza reti ma comunque a due giornate dalla fine sono praticamente una sola squadra è sicura del proprio piazzamento che ha il lec ultimo in classifica a meno sette dalla ferrari pisarò le altre sono nessuno è sicura di chiudere la classifica nel piazzamento che adesso il palermo non può più raggiungere catanzaro ma teoricamente potrebbe essere agguantato da sandoria e brescia che inseguono ecco quindi questo per far capire l'equilibrio l'incertezza in un campionato che dovrai mettere agli ultimi vedete le ultime due giornate la zona di playoff ha detto che la sannoria soffrendo vince a lecco e scavano con brescia stanco brescia contro la ferrari pisarò ma sembra una squadra che ha confermato la flessione delle ultime settimane i due parigi per 0 a 0 la sconfitta precedente crediamo che nella gestione marana e brescia per soltanto contro le prime della classe parma come venezia ma una squadra che anche la partita contro la ferrari si è visto marana c'è una cerca ha tentato una difesa 5 quasi mai vista in stagione la squadra che si è aggrappata la doppetta di bisoli comunque un gol conteso con papetti ma comunque il capitano trascinatore di un gruppo che è un po affaticato e che può guardare e che non può guardare con ottimismo le ultime due giornate perché a parte prossimo turno in casa contro lecco l'ultima giota sarà a bari contro una squadra che ha l'obbligo di vincere per cercare la salvezza o quantomeno il play out quindi una sampdoria che sia sampdoria che breccia noi continuiamo a ritenere le favorite per i play off si è visto anche purtroppo per i piedi tipo di pisa la mancanza di equilibrio di concretezza della squadra di aquilani che perdendo a cremona ha quasi compromesso quasi tutte le ultime speranze teoricamente qualche chance in più l'anno sul tiro le reggiana ma personalmente continuiamo a chiedere a ritenere sampdoria e breccia nettamente avvantaggiate pur senza avere un calendario troppo favorevole per gli ultimi due posti per i play off per quanto riguarda la zona salvezza detto che solo la matematica tiene un ballo in gioco la ferrati salò a che ha quattro punte recuperare sul terzetto delle squadre 37 un calendario non non amico con la trasferenza di venezia e la partita in casa contro la ternana quindi realisticamente c'è un solo posto per evitare la c diretta e poi le due squadre che dovranno disputarsi play out detto che appunto sono salve matematicamente pisa cittadella e il cosenza che con la vittoria di asco il firmante tutino ha raggiunto il suo obiettivo stagionale magari con un po più di sofferenza del previsto detto che il modena è quasi in salvo la vittoria della spese sul palermo è stata molto importante e avvicina tantissimo la squadra di d'angelo la salvezza diretta lo spezia a quattro punti a tre punti di vantaggio su bari ternana e ascoli che sono 37 e dovrà cercare il già nella prossima partita in caso del cosenza salvo visto che l'ultimo che sarà il venezia i punti per la salvezza diciamo che con tre punti lo spezia sarebbe tranquillo potrebbero bastarne anche un paio ma la ripresa che la squadra ha mostrato sotto la gestione d'angelo nelle anche grazie a alcune oculate mosse di gennaio come ad esempio l'acquisto del senso di serio ci fanno credere che lo spezia seppure fatica seppure a termine una stagione praticamente disastrosa riesca a evitare il peggio ovvero la doppia retrocessione per quanto riguarda invece bari ascoli ternana si mette discretamente bene per i bari nel senso che il pareggio contro il parma è molto più importante di quello che si pensi anzitutto perché il bar è in vantaggio negli sconti diretti rispetto alle altre due concorrenti quindi una eventuale arrivo a pari punti con come adesso con la squadra e ternana darebbe al bari la certezza di giocare il il payout in casa ecco quindi sicuramente questo la parte di ritorno in casa quindi sicuramente questo è un aspetto importante e detto questo contro il palma si è visto una squadra più più che è riuscito comunque a canalizzare la disperazione tra virgolette in energia positiva perché comunque si è visto bene un pari più più sul pezzo rispetto alle partite precedenti ovviamente un piccolissimo passo il resto potrebbe fare il calendario perché abbiamo detto che la prossima partita è in casa cittadella già salvo con una premota speranza di playoff e qui il bari in caso di vittoria potrebbe veramente sperare di riuscire a evitare il play out e magari anche ringuagliare ancora lo stesso spezia qualora la squadra di dungeon riuscisse a vincere a cosenza ecco quindi però anche qui i calcoli sono tanti gli incroci possibili sono tanti se ne sa proprio cose di più dopo la penultima giornata quando qualche squadra potrebbe anche uscire definitivamente dai giochi come magari sutte o la reggiana il pita dalla corsa salvezza cosa playoff e magari chiarire qualcosa di più in vista l'ultima giornata ricordiamo che le ultime giornate si dovranno giocare per forze contemporanea la trentasettesima domenica alle quindici e la trentottesima venerdì 10 maggio alle 20 e 30 e vedremo quindi quello che ci riserverà al prossimo turno che ma con alcuni campi ovviamente campi del campo centrale e campi centrale sanno quelle di di como di modena como e di venezia ferrari salò per dove da cui uscirà potrebbe uscire il nome della seconda promossa serie a qualora il como battesse in modena e poi mentre per quanto riguarda la zona salvezza palermo ascoli e cittadella bari e ternan catanzaro sono le partite da seguire per vedere se si arriverà all'ultima giornata come sicuramente sarà così per l'ultima gestione con ancora dubbi da sciogliere l'appuntamento è a settimana prossima per il punto sulla trentasettesima e per ultima giornata di serie b